Buongiorno signorina, buongiorno signora, è qui per la lezione? Sì signora, il professore è in casa. Certo, il professore la sta aspettando, prego prego si accomodi, vedete l'anno subito. Professore, prego esca, la lieve è in casa. Quella che abbiamo portato in scena è una riduzione della lezione di Ionesco, che è un atto unico che parla della violenza e della bestialità che a volte si cela dietro i personaggi della cultura che incontriamo nella nostra vita. Quindi in questo caso un professore che incontra un'allieva e l'allieva fa una brutta fine, quindi è uno spettacolo che alla fine si ribalta completamente. Sono i vent'anni del festival, quindi anche i numeri contano e noi ci tenevamo a esserci perché debuttare con questo nuovo lavoro in un circuito off che ci permette anche di incrociare un pubblico che poi andrà a vedere gli spettacoli in concorso è molto importante ed è anche una conferma del fatto che come compagnia di zona anche qui abbiamo una casa, un posto. La nostra opera è resistente perché noi facciamo teatro insieme da più di vent'anni e quindi siamo molto resistenti, forse da prima del festival, tutti insieme. Siamo andati in scena tantissime volte con tantissimi testi, con altri compagni che poi nel tempo sono cambiati ma noi quattro resistiamo, più di così non c'è dubbio. Non c'è dubbio.